Anticipazioni tempesta d'amore, trama puntate, mercoledì, 16 febbraio 2022. Maya piange il suo amore perduto. Shirin le promette che non farà mai nulla per interferire nella sua vita sentimentale e per deluderla. Maya vuole crederle e aggiunge che non deve fare altro che dimenticare Florian, in quanto una relazione con lui non può funzionare. Grazie a Hildegard, Benny e Cornelia si preparano per trascorrere un pomeriggio insieme in bicicletta. La donna vorrebbe aprire il suo cuore al figlio e parlargli dei motivi che l'hanno spinta ad andarsene. Lui però si irrita e la blocca. Robert li raggiunge e organizza un simpatico picnic per stemperare gli animi. Rosalie convince Werner ad assegnarle il terreno per il campo da calcio e si augura di riuscire a convincere anche i contadini Krautinger a collaborare. Purtroppo però c'è un grosso imprevisto. Qualcuno ha messo le mani sul campetto prima di lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.